Sono Davide Maddaleno e sono il titolare della Barbero Davide di Asti. Produciamo torrone e cioccolato da sei generazioni, del 1838. Da una piccola bottega nel paese di Montbarcelli d'Asti, adesso siamo diventati, dopo tanti anni, un'azienda che esporta in tutto il mondo. Proprio perché abbiamo un prodotto d'eccellenza, noi siamo molto attenti al marketing. Ho conosciuto Cashback World tramite un mio caro amico, che è anche un mio fornitore. Inizialmente abbiamo utilizzato il circuito per fidelizzare i nostri clienti, quindi tramite le tessere fedeltà della Cashback World. Il sistema funziona anche per il B2B. Utilizziamo Cashback World per la fornitura delle nostre confezioni, ma anche per la fornitura di gas e di energia elettrica, che per noi sono spese importanti. Grazie. Grazie.